Quindi si chiamerà Gods and Monsters, il chapter 1 del nuovo DCU. Buongiorno a tutti, bentrovati, scusate per la voce perché ho un cratere al posto della gola. Insomma, è uscita la nuova tabella del nuovo DC Universe. James Gunn e Peter Safran hanno fatto un comunicato ufficiale. Gunn ha parlato, c'è un reel pubblicato e poi ci sono stati diversi articoli che hanno ripreso la notizia. Devo ammettere una cosa, l'ho guardata insieme a Sofia e la prima impressione è stata wow. Però si sarebbe parlato di un nuovo Superman, di un nuovo Batman e allora per me è wow a prescindere. Abbiamo ascoltato bene le parole di Gunn, le ho tradotte anche alla mia controparte, la quale ha sentenziato immediatamente papà, James Gunn a Zack Snyder e Spiccia a casa. Queste sono state le sue parole. Poi però, pensandoci bene, vedo un po' di confusione. Perché ho sentito nomi che già conosco, che fanno parte della vecchia gestione e che quindi non sono stati rebuttati. Perché? Non doveva essere un mega reboot. Andiamo con ordine. Intanto, quest'anno, vedremo Shazam Fury of the God, o davanti la timeline, che, come dice Gunn, introdurrà The Flash a giugno, considerato praticamente ormai da tutti quelli che l'han visto, gli addetti ai lavori, come il miglior cinecomic mai fatto. Ma magari saremo contenti di andare a vedere questo film e di uscire dalle sale sorpresi. Questo The Flash resetterà l'universo. Nella timeline c'è una bella galassia che scoppia e sotto Universe Reset. Dopo avremo Blue Beetle e Gunn ci dice che introdurrà Aquaman. E Aquaman introdurrà il nuovo universo, con Superman Legacy. Ma quindi Aquaman conterrà una scena post-credit o mid-credit dove ci sarà il nuovo Superman? Ah, quindi ci saranno dei Reshoot? Ci sarà un annunciatore che dirà Ah, fermi tutti, non andate via. Ci sarà Superman. Legacy. Insomma, come faranno ad introdurre un personaggio che ancora non hanno presentato? Ma vabbè, vediamo che cosa succederà. Superman Legacy sarà il primo film del nuovo DCU, del Chapter 1. Superman Legacy, scritto da James Gunn e diretto, non sappiamo ancora da chi, però Safran, in una conferenza, ha detto Eh, sto cercando di convincerlo di dirigere questo film. A me viene da dire, magari. A me piace James Gunn. Va benissimo, sia come scrittore che come regista. Mi va benissimo. Ma attenzione, di cosa parlerà questo Superman Legacy? Di un Superman giovane, alle prime armi, che sarà lì combattuto fra l'eredità, Legacy, kriptoniana e la sua nuova dimensione terrestre. Quindi sentimenti contrastanti, le prime problematiche che potrà incontrare nel suo lavoro al Daily Planet. Perciò, non una storia di origini, ma comunque un Superman giovane. A me va benissimo, eh. Anzi, mi piace molto l'idea. Però andiamo avanti. Per il momento parliamo di prodotti cinematografici. Perché poi ci saranno anche delle serie. Authority. Ammetto la mia ignoranza, non conoscevo minimamente questi personaggi. Però sono andato a controllare. E questo è un gruppo di supereroi che facevano parte della Windstorm, acquisita poi dalla DC. Però c'è una caratteristica di questi personaggi. La violenza. Ora, c'è modo e modo di rappresentare la violenza al cinema. Ma io questo film, la mia figlia, potrò farglielo vedere? Ma questa è una domanda che mi faccio anche più avanti, eh. Comunque, Authority. Significa il primo gruppo al secondo film. Quindi io vedrò Superman Legacy, che sarà l'inizio di questo nuovo universo condiviso. E il film successivo, non so ancora se dovrò andarlo a vedere da solo, con un mio amico, oppure potrò portarci mia figlia. Sarà già il primo ensemble. Film successivo, Batman, The Brave and the Bold. Oh. Qua il wow è d'obbligo. The Brave and the Bold è un'ottima run fumettistica. Molto bella. Però anche qui, un po' particolare. C'è un Robin, che non è Dick Grayson, non è Jason Todd, non è Tim Drake. Ma è Damian Wayne. Quindi il figlio di Bruce. che lui però non conosce, non sa di averlo. Almeno fino ai 8-10 anni del bambino. Lui è il figlio di Talia al Ghul. Nato da un rapporto tra i due, eh. Tra Bruce Wayne e Talia al Ghul. E vabbè, facciamo che arriva Damian Wayne. E vorrà dire che Batman poco a poco avrà 45-50 anni. Va bene, non 50, ma 45 li avrà. E quindi un Batman già con i capelli grigi è un Superman al secondo anno di attività. Perché? Ma coetanei? No? Ma vabbè. Vediamo come la presenteranno. Sono curioso. Il punto è, il rapporto fra padre e figlio è molto conflittuale. Damian Wayne non è proprio un ragazzetto facile. È uno che uccide anche. Il padre farà fatica ad insegnargli la strada. E allora qui mi chiedo, ma che film sarà? Poi, Supergirl. The Woman of Tomorrow. Già Supergirl, la cugina di Superman che è sopravvissuta su una roccia del pianeta Krypton e a differenza del cugino che è stato allevato da una famiglia sana di principi nel Kansas è stata cresciuta lì su questo residuo del pianeta Krypton. Suppongo anche abbastanza arrabbiata. Passiamo al quarto film. Arriverà sulla terra? Interagirà con il cugino? E poi veniamo al film più problematico. Swamp Thing. Questo qua dovrebbe essere un horror. Sarà un horror in stile Doctor Strange in The Multiverse of Madness? Potrò farlo vedere a mia figlia? In conclusione, su cinque film io probabilmente con Sofia andrò al cinema due volte. E francamente questo aspetto per un universo condiviso di supereroi fumettistici non è che mi piaccia proprio tanto o poi sono supposizioni io sto guardando il pannello e sto solo pensando. A parte questi ma poi ci torniamo Gunn ha detto che ci sarà anche un DC Elseworld e di questo mondo alternativo faranno parte il Joker di Todd Phillips il secondo film che uscirà Joker Folia 2 e The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson parte 2. Al momento voglio ricredermi ma al momento questa è la migliore notizia del comunicato perché sia il Joker di Todd Phillips che il Batman di Matt Reeves li ho adorati. Sia chiaro non hanno detto che non sono contento che ci saranno dei nuovi supereroi ho detto solo che mi aspettavo qualcos'altro una sperimentazione su un horror su un gruppo di supereroi un po' violenti su Batman e suo figlio che hanno un rapporto un po' così mentre dall'altra parte c'è un Superman praticamente al primo secondo anno di attività non me l'aspettavo come origin story di un nuovo universo. Poi abbiamo capito che di reboot non si tratta perché ci sarà una serie tv chiamata Waller dove Viola Davis interpreterà Amanda Waller quella della Suicide Squad e quella di Peacemaker. Questa serie tv probabilmente si metterà in mezzo tra la prima stagione di Peacemaker e la seconda perché devo dare ragione agli Snyderiani i quali sostenevano e vuoi vedere che adesso Gunn salva soltanto i suoi prodotti? La comunicazione non è stata proprio chiarissima secondo me in Warner dovrebbero stabilire un tipo di comunicazione diversa. Gunn è uno a cui piace comunicare piace parlare scrive tantissimo risponde ai fan però questo tipo di comunicazioni stiamo parlando del nuovo universo DC ma dovrebbero essere concepite in maniera diversa secondo me ecco a proposito delle serie tv ci sarà Lanterns che effettivamente potrebbe essere un prodotto molto interessante una true crime story con protagonista le due lanterne verdi bella quella la aspetto ma poi Paradise Lost che sarebbe un prequel ambientato a Temiscira prima della nascita di Diana Prince a parte che ma chi se ne frega ma poi ma quale Diana Prince quella di Gal Gadot o un'altra non si sa insomma questo annuncio ha aumentato in maniera smisurata la curiosità di vedere questi prossimi uno due tre quattro film prima ancora di vedere il nuovo quello di Superman perché voglio proprio vedere come hanno fatto a trasformare quattro pesi morti in quattro prodotti importanti per l'introduzione di un nuovo capitolo se ci sono riusciti tanto di cappello sono due geni ho paura che questo chapter one che peraltro non è terminato perché questa è solo una parte di quello che vedremo in questo primo capitolo non avrà via di mezzo o sarà un successone o sarà un flop esagerato a me dispiace dirlo ma al momento sento veramente puzza come direbbe mia figlia di impepata dei cozze speriamo di no per il momento ci salutiamo grazie per avermi ascoltato iscrivetevi al canale cliccate su mi piace se vi è piaciuto e su non mi piace se non vi è piaciuto grazie alla prossima ciao 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 ciao